salve a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale sono Filippo e sono qui con la team di Vaporeon avevo detto avevo promesso che avrei portato gran festa fino all'anno prossimo però ho visto questa team ero andato appunto a vedere qualche cosa di pokemon nella sempreverde smè io faccio pubblicità ma nessuno mi paga per dirlo e ho visto le team dei tre delle tre evoluzioni e ho detto beh ne compro una e quale potevo comprare se non Vaporeon che delle tre è la mia preferita Flareon non l'avrei presa neanche sotto tortura quindi Jolteon non ne vado matto Vaporeon era la scelta più sensata vediamo un attimo cosa dice dice colleziona le evoluzioni no perché tanto io mi angosolo con Vaporeon passa al livello successivo con le evoluzioni storiche di Eevee pesca un rapido flusso di carte con il tipo acqua Vaporeon carica la partita con il tipo lampo Jolteon o incenerisce l'avversario in un colpo con il tipo fuoco Flareon il tutto con le scatole della collezione l'evoluzione di Eevee nel del GCC Pokémon scoprite solo il GCC e ciascuna di queste insomma solite robe mi dà fastidio che è un po' storto non so se si veda ma è tipo storto mi dà un po' fastidio comunque c'è la carta olografica con Vaporeon Jolteon o Flareon le quattro buste e la carta codice è molto bello con l'effetto delle onde anche bello il Vaporeon e qua si intravede diciamo la coda e un po' mezza testa di Vaporeon stesso ho fatto un piccolo taglio qua col coltellino per aiutarmi ecco e voilà si è molto storto e mi mi infastidi si può togliere se lo tolgo perché averlo storto mi infastidiva parecchio eccolo qua perfetto bella team scoperchiamola e quella hanno tolto l'effetto giallo che c'era sulle altre team sulle team più vecchie ok allora abbiamo Vaporeon senza fare troppi danni eccola qua molto molto bella colpo rapido pescata tripla pesca tre carte assolutamente fortissima e salto splash scambia questo Pokémon con uno della tua panchina ok dai fa tipo retromarcia fa danno e poi se la tela molto molto carino sword and shield numero 150 mi piace anche perché poi mi piace Vaporeon ma non interessa un po' il contenuto interessa le confezioni abbiamo evoluzioni etere fragore ribelle fragore ribelle sintonia ancora sintonia mentale e io non lo so è assurdo ancora sintonia mentale sintonia mentale io non trovo mai nulla e continuano a propormelo io vedo allora questo set che sintonia mentale vada fuori produzione perché non ne posso più di aprire sintonia mentale che tanto vedrete che qua non ci sarà un kaiser energia folletto è il gem che tra l'altro è simile a una carta molto vecchia di abra l'artwork è praticamente identico tavola da inversione carra costa un biduf mettiamolo qua perché chi sta vedendo la randi diamante sa quanto io consideri biduf un dio praticamente è un meme ma scorpi wimpud noibat snizzle dragonair e scavagliè raro normale come potete vedere io in sintonia mentale ed è un set da 236 carte io non trovo mai nulla seconda bustina fra ok quella di fragore ribelle che sinceramente non ho ben in memoria quello che si possa non si possa trovare qua dentro ma allora energia fulmine miniere di galar avviciniamoci bronzong metapod un bel vulpix un milkry un farfetch di galar un mew di galar un caterpie un toxtricity e uno schizor male 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 due pacchetti due rare neanche una full art neanche una vi neanche una gold neanche una hyper né una fuori serie nulla nulla io mi domando perché perché io porto le tin che tanto non trovo mai nulla energia lotta abbiamo un luxio un draclok un bronzong meditite un meditite stunchi questo è il pacchetto di diamante perla grabbin wingul natu morpeco e trevenat mamma mia che male ai 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 proprio brutte come carte è rimasto l'ultimo pacchetto però potrebbe essere un segno umbron è l'evoluzione diva è l'evoluzione divi una delle evoluzioni potrebbe essere un segno benché umbron non mi piaccia ma potrebbe essere un segno e speriamo che lo sia trick a quattro voilà allora abbiamo energia metallo abbiamo nazleaf zwailus milo lilipop ippopotas un brutto fibas un gossifleur un vubat un trolley e un salamensa quantomeno è olografico vale no non vale neanche almeno è oro ma che merda cioè che schifo dai veramente male una tin intera solo per vapore non per carità mi piace vapore un però insomma 25 euro per una promo e quattro pacchetti che se stavano chiusa la più bella figura insomma non è andata molto bene per dire che è andata da culo ragazzi il video di oggi termina qui mi raccomando continuate a seguire questi spacchettamenti anche se sono una volta settimana commentate condividete fatemi sapere se nei codici avete trovato qualcosa di meglio spero per voi di sì seguite la serie di diamante che sto portando avanti ma non perdetevi neanche gli altri spacchettamenti che arriveranno ragazzi grazie avermi seguito commentate condividete noi ci diamo ad un prossimo video ciao ragazzi